ciao a tutti ragazzi vi ricordo sempre per chi volesse sostenere il canale degli esonerati e di giuse 10 insieme a tutti i ragazzi lo può fare gratis per chi ci volesse stare vicino non è una battaglia ragazzi questa qua contro i patteggiatori non è una battaglia è una cosa giusta da fare perché hanno esagerato e quindi è giusto sottolineare far capire che stanno rigirando la frittata e che quelli cattivi siamo noi dell'iter no 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 in queste in questa ora è successa una cosa gravissima un messaggio bruttissimo di persone secondo me che sono nel panico iscrizione al canale gratis e campanellina condividete il link del canale degli esonerati nei vostri gruppi whatsapp chat telegram gruppi privati fate iscrivere tifosi interisti al canale degli esonerati e sappiate come è scritto questo è il nostro claim poi alla fine della fiera tutto gratis no abbonamenti no donazioni se volete fare abbonamenti o donazioni e ci volete fare un regalo visto che sono due anni e contribuiamo eh nell'adozione di cani e gatti e nelle donazioni a canile e gattili fate qualche donazione a qualche canile o gattile quello più vicino a casa vostra e ci farete contenti mandateci anche le foto qualora siate già mentalmente predisposti per adottare un bel gattino o un bel cagnolino perché bisogna essere predisposti mentalmente non sono degli oggetti iscrizione gratis e campanellina non ho nulla contro richiede donazioni abbonamenti non voglio litigare con i tifosi interisti già per zanghi ci ho litigato per due anni non con tutti ma con molti interisti poi dopo alla fine abbiamo visto cosa è successo ma attenzione attenzione al messaggio di gravina scaccio e finanza riporta dieci minuti fa una roba assurda vergognosa per come la vedo io l'amico dell'inter eccolo qua l'amico dell'inter come dicono i patteggiatori gravina plus valenza juve condanna e patteggiamento una cosa normale va commissariata alla figici ragazzi dopo queste parole gravissime di gravina dopo queste parole gravissime di gravina praticamente avete già capito perché lui dichiara di aver salvaguardato il brand juventus lo dice lui non lo dico io ma almeno guarda almeno ha avuto i coglioni di dirlo ho salvato la juventus l'hai salvata gravina lo hai detto te lo ha detto moncalvo non lo sto dicendo io è un messaggio vergognoso però a mio parere posso esprimere una mia opinione per me questo è un messaggio vergognoso che fa capire finalmente come stanno le cose altro che marotta league signori gente si inventa e c'era anche marotta con lui a pranzo insieme agnelli marotta non c'era guarda caso è stato detto da quello che si pettina con la rugiata in un secondo video e c'era anche marotta a pranzo marotta non c'era a pranzo non parla nessuno di marotta la giustizia sportiva ha già esaurito il suo percorso noi siamo incisivi rapidi e obiettivi l'ho visto messaggi obiettivi dall'altro le parole di gravina vanno non a cozzare fanno un frontale con le parole del ministro Bodi sul patteggiamento della juve molto critico perché dice attenzione non va presa assolutissimamente d'esempio quello che è successo la juventus non deve passare un messaggio sbagliato e serve una riforma assolutamente serve una riforma volevano far capire che quelli della coviso che si fossero dimessi per i conti dell'inter invece non è così perché c'è moncalvo eh che ora stanno definendo un pazzo visionario come fecero con Zeman come ho detto stamattina moncalvo ti fa capire che la coviso si dimette per la storia eh agnelli gravina e ti fa capire anche che se parlano quelli della coviso eh non ci saranno più tarallucci e vini o il vino ma ci saranno volatili che dassù o ritornano giù per la juventus da quello che dice moncalvo perché lo ripeto moncalvo scrive dei libri editati moncalvo è stato in televisione un Maurizio Stanzo Show moncalvo ha fatto il TG cinque moncalvo scrive saggi qualche ed uno può scrivere solo sulla cartigenica qualche appunto e cosa può fare messaggio vergognoso messaggio vergognoso per quello che riguarda Martinez te l'ho sempre detto io non faccio calciomercato quando ci sono i giocatori da trenta trentacinque paranta all'Inter non arrivano almeno che non tu riesca a fare plus valenze per cinquanta sessanta milioni il saldo mercato Inter a luglio parte a meno cinquanta quindi devi trovare nei primi giorni di luglio cinquanta milioni per ripagare il mercato dell'anno scorso Martinez è un portiere che a me piace tantissimo contro l'Inter però anche le mosche eh la gente sottovaluta e l'Inter al preparatore dei portieri più forti del mondo che si chiama Spinelli e viene dal Paris Saint-Germain con cui lo spagnolo può migliorare tantissimo te lo ripeto l'Inter ha il preparatore dei portieri più forti del mondo quindi io Martinez lo prendo e molto volentieri perché a me piace anche perché i sudamericani Giulio Cesaro Giulio Cesaro e Allison eh Dida sono comunque ah ah la lingua il cibo hanno bisogno sempre di un annetto due di ambientamento questo arriva e pronto il campionato di Serie A lo conosce la lingua la conosce quindi eh già molto più diciamo performante da subito poi Bento sicuramente è un ottimo portiere ma ritorno a dirvi per quelli che piangono per Bento io posso sapere se è un bel giocatore il fascino del portiere brasiliano ti riporta i ricordi della chiappa sogni Giulio Cesaro ma molti di quelli che piangono per Bento l'avranno visto giocare tre volte ciao Inter grazie a tutti ieri a tutti ieri a tutti ieri a